Sì, mi dà fastidio, ma che pucci, mi dà fastidio, non te ne puoi tornare a casa tua? Sì, mi date fastidio tutti quanti, capito? Perché l'hai pagato, l'hai pagato, ti alzi e ti scegli, ti dà fastidio solo, ti alzi e ti scegli dall'altra parte, non rompi i c***o. Sì, mi stai dando fastidio, hai capito? Mi hai rotto le palle, perché ti siedi vicino a me? Sei pure puzzoletto, mi stai dando fastidio. Sì, mi stai dando fastidio, hai capito? Ma stiamo scherzando, io sto qua da solo, tu mi vieni che ti siedi qua, ma stiamo... No, ti siedi in un'altra parte. Sei pure puzzoletto, mi stai dando fastidio. Venite qua, se vuoi rompere il lavoro. Sì, venite qua, per farci il lavoro, vai a casa tua. Apertura quarta e a destra. Cioè, ti siedi qua, ma stiamo scherzando. Ma non ti preoccupi? No, non mi vergogno, perché sei? Quando sei che non resti da qualsiasi c***o? Perché, scusami? Ah, mi devo vergognare? Next toaster. Cascina Gonda. Corrispondenza con collegamento con l'ospedale San Raffaelli. Cioè, tu sono secondo me qua, tutti i occhi vicini a me. No, ti devi allontanare, sei puzzoletto, perché mi dà fastidio, sì, mi dà fastidio. Cioè, che comportamento hai? Io sto qua, tu ti sei vicino a me. No, dovete andare a casa vostra, avete tutte le palle. Mi stai qua vicino? Cioè, ma dai, ho... No, è assurdo. È un metro un po' più, non puoi vedere la spara. Eh, ok, però io sto qua, non ti devi vicino a me. No, ma non si fanno queste cose, che io sto qua, tutti allontanano e ti mettono a me. No, non si fanno. Sì, e così devi fare. Mamma mia, mamma, ti rendi conto? No, ma non si fanno queste cose. No, non si fanno queste cose. Non si fanno queste cose. No, ma non si fanno queste cose. Mi dà fastidio. Ti puoi mettere di là, eh? Ti spetti vicino a me. Ma stiamo scherzando. Mi dovete tenere a casa la vostra. Allora, ma spostate, ma... Eh, io mi devo spostare, cioè... Ma perché è... ...dai, hanno rotto le pate qua. E si è seduta vicino a me, puzza, mi dà fastidio. Ma puzza, allora, sposta tu. No, cioè, non si fanno qui. Eh, sì, ma come... Non mi interessa. Cascina notta. Non metti in un'altra parte, per favore. Mi stai dando fastidio e ti metti proprio vicino a me. Sì, sì, puzzi e ti metti in un'altra parte. Non ti metti vicino a me. Mi dà fastidio. Ma guarda questo. Cioè, io sto qua, ti senti vicino a me? Andate a casa vostra a lavorare, non qua. Sì, ho problemi. Mi dà fastidio, punto. Hai capito? Cosa vuoi? No, non mi rispondere neanche, che non voglio parlare con te. Ma vai da un'altra parte, sei da un'altra parte, no? A me mi dà fastidio. E puzzi, ti metti in un'altra parte. Cioè, nonostante che venite qua a rubare il lavoro a tutti quanti, a fare tutto il c***o, un comodo vostro, io devo stare qua a subire pure... che tu mi rispondi in questo modo e dimmi stare pure vicino. Va, va, va. Prossima fermata. Nekon, colonia centro. Sto parlando con te. Ti stai stendendo vicino a me con tutto il posto che c'è? Puoi andare a sederci in un'altra? A me mi dà fastidio. No, mi dà fastidio. Ma dai, stiamo scherzando. No, cioè, io sono seduto qua e tu ti sei vicino a me. Ma stiamo scherzando. No, te ne devi andare, vai da un'altra parte. Dai. Siedite da un'altra parte, no? Non stare con lui. Non mi dà fastidio, non ti siedi da un'altra parte. No, Pursi, mi dai fastidio, ti siedi da un'altra parte, capito? Ma vai, fino. Cioè, avete rotto le pali. Sì, ti siedi di là, o di là, o di là, o di là. Cioè, non stai cominciando. No, mi stai da un'altra spiglia. Ma f***a, non ti siedi da un'altra parte. Avete rotto le pali, dovete andare a casa voi. Perché sei un'assista? Sì, sì, a me mi dà fastidio, ok? Perché sei un'assista? Stiamo scherzando. Ma vai in un'altra parte. Non ce l'ho a me. Siedi la fermata e poi, che c***o fai un'assista? Sì, sono un'assista. Sì, sono un'assista. Scusa, non tutto il posto, non so se fosse un'altra parte. Mi si è riuscito a me. No, mi dà fastidio. Non ti puoi stare in un'altra parte? Però, niente, vuole che ti siedi un'altra parte. Mi dà fastidio. Crescentato. Perché puzzi? Se vuoi stare in un'altra parte? Sì, sono un'assista. Sì, mi dà fastidio. No, non stai a me. Cosa mi fermi? Scusa, ma con tutti questi posti, ti devi sapere il cinema. Sì, mi dà fastidio. Perché puzzi? Mi dà fastidio. Non te ne puoi tornare a casa tua? Qualcosa buona, no? A me mi dà fastidio. Te devi andare da qua, guarda. Sono un po' e c***o. No, puzza, no. Se vado a tornare a casa loro, mi hanno rotto le palle. Guarda, non ti posso vedere. Sì, mi date fastidio tutti quanti, capito? Perché l'hai pagato? L'hai pagato. Ti alzi e ti scegli. Ti dà fastidio solo? Sì, ti alzi e ti scegli dall'altra parte. Non rompi c***a l'auto. Ti puoi lontanare un pochettino, per favore? Prossima fermata. Ti puoi lontanare? Next stop, Cimiano. Ti stai guardando con te, ti senti allontanare un pochettino, perché non mi serve. Ti puoi mettere il lato, per favore? Prendelo tu le palle, tutti voi, perché hai capito? Ti dovete tornare a casa loro. Ma che c***o vuoi? Mi dà fastidio, ragazzi. Mi dà fastidio? Certo. Perché non la tenerebbe il stesso colore.